Settima giornata dell'Igacetea, Orange Team contro Leo Soccer, partita finita con il risultato di 12 a 1 per l'Orange Team, qui sono presenti sia l'uomo partita asciuto che Spadola e Basile. Grande partita al solito, diciamo il divario tecnico era abbastanza ampio, asciuto, 6 gol, che dire? Oggi ho fatto 6 gol perché la squadra si è concentrata a farmi giocare sotto porta, sotto mia insistenza. Sono forti dietro no? Sì, abbiamo dei buoni assist men diciamo, complimenti a Van Ausek, a Giottano e a Messina che fanno assist e ci riempiono sempre di ballo e gollo sotto porta. Certo, dietro qua vedi a Basile no? Ottima partita ancora, una volta. Sì, oggi è stata una partita, diciamo facile dai. Non si sente, quindi vicino lo devi mettere. No, è stata oggi una partita abbastanza facile, loro su quella tecnica erano mettonati inferiore a noi, è stata una partita per magari provare alcuni assetti tattici. Non si vede. C'è in vista poi delle fasi finali? Sì, sì, in vista delle fasi finali, oggi è arrivata anche la doppietta per me, puntiamo al miglior difensore quest'anno, quindi faremo di tutto per arrivare anche in finale. Ovviamente puntate anche a finire a punteggio pieno il girone. Certo, domenica se non erro c'è l'ultima, non poi noi riposiamo, puntiamo all'ennesima vittoria e chiudere il girone senza sconfitto. Va bene, spadola, perdiamo un gol. Ottima partitazione ancora, una volta. Teresi in coppia, va bene. Cosa devi dire? Sei emozionato. Va, te la dimi. Sono emozionato perché l'aveva veramente vista, per questo. Va bene, ragazzi, vi ringrazio e ancora complimenti.